Siamo con Tai Madonna, post partita contro Ponzano, avete fatto fatica per 30 minuti, poi avete accelerato, cosa è stato a farvi fare il break secondo te? In realtà noi ci siamo persi nei primi 30 minuti in cose veramente futi ma in difesa, il fatto ci impediva di non girare bene sciolte in attacco come sappiamo fare. Abbiamo aumentato un po' il livello difensivo e infatti poi l'attacco ci è uscito un po' più semplice, anche se Ponzano è una squadra che è rugnosa, quelle squadre che purtroppo, per fortuna per loro, cercano sempre di metterti quell'ingranaggio che ti impedisce di giocare la canestra tranquillamente. Io è la prima volta che gioco contro di loro quest'anno, loro come squadra è stata la prima volta e ci hanno messo in difficoltà per buon parte della partita, ma secondo me nella seconda parte siamo riusciti a fare la nostra balla canestra e a tenere il nostro ritmo. Grazie mille. Grazie a te.